Allora ragazzi appena rientra il nostro Roberto che ha alcune serate impegnate per dei corsi dopo cena, corsi serali, appena rientra Roberto verremo in questo ambiente qui, in questa casa delle bambole particolarissima, a fare un'indagine e vedere se riusciamo a raccogliere qualche informazione da qualche presenza o da qualche anima che è qui dentro o dentro qualcuna di queste bambole. Ciao ragazzi, seguiteci, metterò l'annuncio quando ci sarà questa indagine dopo cena, di solito alle 21, 21 e 30. Un abbraccio a tutti da Stefano, Gruppo GRP.